Com'è andata questa giornata? Molto pioggia alla partenza. Diciamo bene dai, una cosa così non l'avevo mai fatta, tre ragazzi 220 km, alla fine erano più forti, quindi sono contento per com'è andata alla fine, più di così oggi era impossibile. Alla fine era questione un po' di gambe, un po' di gioco, di tattica, ma se avevi le gambe stavi là, altrimenti 9. Però adesso va bene così.